Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. 4, 3, 4, 5, 8. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7. 6, 7, 9. 6, 7, 9. 7, 6, 7. 4, 5. 5, 6, 7. 6, 7, 9. 7, 6, 7. 4, 5, 2 volte. 6, 7, 4. 5, 8, 3. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. 6, 7, 8. 6, 7, 8. 7, 8, 9. 6, 7, 9. 7, 9. 7, 8. 8, 9. 7, 9. 8, 9. 10, 9. Sette, quinte, rosse con due. Terze, quarte, quinte, sette, settime, ottave. Sette, quinte, quarte, terze, quarte, quinte, sette, settime, ottave. Rosse, terze, quarte, quinte, ottave. terze, quarte, quinte grosse, ottave, settive, sesta e uno, settive e due, ottave e tre, settive e due, sesta e uno, settive e due, ottave e tre, grosse e cinque e due. Giù.